Allora, questo nuovo leak che tieni nascosto cos'è? Deve essere una bomba per suscitare l'interesse della CIA. Quindi mi credi finalmente? No, no, prima non ti credevo, ma poi ho notato i tuoi amici. Non attiriamo l'attenzione. In fondo le spie americane sono abbastanza civilizzate, con i russi che dovresti tenere gli occhi aperti. Stanza 376, quando la signora Langa tornerà, portala di sopra, penseranno che passerete insieme la notte. Così avremo più tempo per farti uscire di nascosto dall'albergo e tu finalmente potrai mostrare al caro Nick cosa rincorrono. Ad ogni vado. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.